Inventiamo dei numeri, inventiamoli. Comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei. È troppo poco, senti questo. Uno stramilione di miliardoni, un ottone di milantoni, un meravigliardo e un meraviglione. Lo si sentiva suonare di lontano. Baraban, baraban, baraban. C'era una volta un tamburino che tornava dalla guerra. Sì, voglio darti una piccola magia e sarà questa. Quando il tuo tamburo rullerà, tutti dovranno ballare. Grazie, nonnetta. È proprio una magia coi fiocchi. Aspetta! Non è finita. Tutti balleranno e non potranno fermarsi se tu non smetterai di suonare. Una volta, in un paese lontano, venne al mondo un bambino trasparente. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E come funziona? Ah, è facilissimo. Può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia il paese connesso davanti. Che meraviglia il paese connesso davanti.